Si ripete anche quest'anno la tradizione con l'appuntamento immancabile del Lulunario che è il calendario che tutti gli anni ci ricorda il legame di Chieti a determinati riti, a determinate tradizioni. Ugo Iezzi, quali sono le rubriche fisse che quest'anno? Le rubriche sono sempre le stesse, dalle curiosità più lontane alle identità più vicine. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare questo calendario ad Achille, al fondatore della nostra città. Per cui questo calendario è un pezzo unico, ancora di più con Achille, è un pezzo raro che gira in tutto il mondo. Ed è una specie di talismano, talismano della buona tavola e della buona compagnia per dare più forza a questa squadra che oramai gioca molto più fuori casa che in casa. Il prossimo anno saremo chiamati da Tollo, quindi dedicheremo il prossimo lunario al vino perché abbiamo la fortuna del Presidente nazionale di Città del Vino che è il Sindaco di Tollo, Angelo Ratti che, come dico io nelle nostre riunioni, è l'usente che chiuffregni d'Abruzzo. Il lunario non viene acquistato, non viene venduto, viene distribuito in tutto il mondo alle associazioni degli abruzzesi e molisani del mondo e in più alle associazioni, diciamo cittadine e non, che si occupano dei tradizioni perché nel lunario ci sono due pezzi forti, il dialetto e il fumetto. Il primo settore viene curato in maniera strabiliante da Mario D'Alessandro, il secondo settore, cioè il fumetto, viene curato invece da Passepartout, ovvero Gianfranco Tartaglia.